buonasera allora questo è vedrete questo video in tante parti perché questa è la prima parte che giro questi sono alcuni acquisti o regali che ha avuto bianca per il compleanno da parte delle nonne allora questa connellina e le fatti allora stavo dicendo fatti vedere questa connellina così che porta i volans sotto allora questa connellina vediamo se c'è questa connellina così sempre 24 36 mesi avanti porta i bottoncini così poi sopra che hanno abbinato questo bodino di mini che ha il fiocco tartan come la gonnellina anche questo è 24 36 chi te li ha fatti questi regali chi non ha brava sia nonna candida che non natina allora questi qua questo qua che ho un vestitino con i cuoricini e sotto sempre volanti ci prepariamo natale sempre se invece 23 anni 96 centimetri di centimetri sono gli stessi poi queste calze sono blu e rossi amore dimmi o il pollo quel pollo il pollo rossi e blu un paio poi questa vestaglietta per casa per bianca pollo questo qua 23 anni poi questo qua che è un pigiamino di questi qua con i piedini che si possono anche staccare in pile questo è 24 36 mesi sempre 96 centimetri e infine questo pigiamino in pile rosa il pezzo di sopra è così con gli orsetti e il pezzo di sotto è così ok e poi delle ciabattine di mini che bianca ha già al piede ok breve ma succuso